ok salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video sono Tony che dice ragazzi allora devo rifare per forza questo video perché a causa non so di che cosa perché youtube non mi ha accettato questo video non so ora youtube accetta i video stupidi no i video tutorial capito quindi oggi vi parlo anzi vi aiuto su come risolvere l'avvio di rocket link ok ragazzi innanzitutto per fare questa procedura non dobbiamo fare altro che avviare un attimo epic games ok allora una volta avviato epic games non ci resta che avviare rocket link ma questa volta guardate un po avvia un attimo esecuzione in corso vediamo ecco come potete vedere non si è avviato perché perché quella notifica dell'antivirus ha rilevato qualcosa qualcosa che impedisce al gioco di aprirsi quindi in questo caso non ci resta che disattivare l'antivirus quindi se io adesso vado su lo scudo qua sopra questi simboli stazioni protezioni no dove eccolo qua si grazie molto gentile grazie x e ok ora possiamo avviare rocket link e sperare che sia ecco visto che magia spero che funzioni anche a voi perché veramente veramente no dovevo fare questo video tutorial assolutamente per fortuna ci sono riuscito ecco come potete vedere rocket link è partito ok tanto neanche ci gioco abbandono ok grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao